Ciao Strimpellari, allora uno dei principali dubbi che le persone hanno quando pensano di essere negate nella creazione del suono oppure hanno dei dubbi proprio riguardo a ma sarò in grado di fare come fanno i tecnici del suono che sentono una cosa e dicono ah qua ci vorrebbe un po' di più di compressione, no perché c'è meno dinamica eccetera. E il principale dubbio è ma io avrò un buon orecchio mi serve un orecchio sopraffino per fare questo genere di cose per arrivare a questo livello di accuratezza quando vado a gestire il mio suono e quindi già il fatto di avrò abbastanza un buon orecchio teniamo presente che già l'affermazione buon orecchio è di per sé sbagliata. E intanto perché? Perché intanto non è una questione di orecchio perché non si parla di riconoscere la nota tipo orecchio assoluto che lì tra l'altro magari una cosa di cui parleremo in un altro video ma quando si parla di buon orecchio in realtà si intende il lavoro che fa maggiormente il cervello. Poi in generale tutto passa per il cervello perché qualsiasi cosa anche una sensazione sulla pelle eccetera tattile così comunque deve passare per il cervello. Però in generale perché è molto più interessante dire del cervello rispetto ad avere un buon orecchio e perché proprio dire un buon orecchio è sbagliato? Perché in realtà sono cose che noi elaboriamo a livello di memoria conoscenze e esperienza ma adesso ci andiamo andiamo a vedere proprio perché il fatto di avere un buon orecchio chiamiamolo così lo chiamo così per comodità perché tutti ormai utilizzano questo modo di dire. In realtà non è una cosa innata ma è una cosa che si sviluppa tramite proprio due fattori il primo è la conoscenza e il secondo è l'esperienza come appunto ho detto poco fa e non è una cosa innata perché perché intanto come appunto dicono questi due fattori cioè conoscenza e esperienza entrambe le cose sono cose che puoi acquisire ok nel tempo. Primo la conoscenza perché perché uno può avere può accorgersi di qualunque cosa a livello di suono ma per esempio io nelle lezioni che abbiamo fatto live a porte chiuse ovviamente gratis la scorsa settimana ho parlato qualcuno mi aveva chiesto del master volume cosa cambia eccetera eccetera ma se uno non sa cosa cambia a livello di dinamica il master volume cosa cambia a livello di compressione cosa cambia a livello di suono quel master volume cosa che chi approccia per le prime volte al suono della chitarra quindi magari si è comprato il primo amplificatore o il primo effetto eccetera eccetera non sa qual è veramente l'ingaggio qual è la modifica al timbro del suono che va a fare il master volume. Se uno non lo sa di partenza e non sa neanche che quel master volume magari non è solo un volume ma appunto come stavo dicendo prima agisce proprio sul suono anche. Se uno non lo sa non può dire per esempio ok voglio un suono più compresso uno che sa come funziona il master volume può dire magari al posto di aggiungere un compressore posso agire sul master volume alzare la manetta se sono ovviamente in un ambiente che me lo permette oppure se sono in digitale e ottengo una dinamica più compressa. Ok ma se io non so questa cosa come faccio a dire anche solo ascoltando un suono se magari per me quel suono un master volume più alto oppure la compressione che sento magari di dinamica è data da un compressore vero e proprio. Non lo posso sapere perché non ho le conoscenze quindi primo fattore è la conoscenza se io non so cosa influisce sul suono e come lo stesso influisce non posso sapere neanche non posso neanche riconoscere la stessa cosa. Quindi se a te è capitato di dire ma come mai quella persona lì vedo che si accorge di cose del suono che io non mi accorgo perché magari ha delle conoscenze che non hai. Secondo fattore abbiamo detto è l'esperienza ovvero se io non faccio abbastanza esperienza nel dire ok vediamo cosa cambia nel suono della mia chitarra quando alzo il master volume faccio sempre quell'esempio ma si applica a tutti i parametri ovviamente è solo un piccolo esempio questo qua banale. Se io non faccio tante prove magari con le mie chitarre diverse chitarre diversi pickup su cosa cambia tra il master volume a 1 e il master volume a 10 a 6 a 4 se non immagazzino queste informazioni nel mio cervello non posso dopo andare a riconoscere magari le stesse cose in altri contesti o su suoni di altre persone. Quindi conoscenza il primo fattore se io non so cosa cambia un certo parametro non posso neanche riconoscerlo secondo esperienza devo fare tanta tante esperienza tante esperienze diverse che cosa vuol dire esperienze nell'ambito del suono vuol dire provare fare sperimentare cioè non basta solo studiare ma devi anche mettere in pratica e provare con i tuoi sistemi a vedere cosa cambia cambiano un parametro come lo senti tu perché è così che poi tramite il nostro cervello cioè tramite la memoria noi memorizziamo magari cosa cambia a seconda di come cambia un parametro ed è da lì che poi sviluppo il mio orecchio sopraffino. Ovvero quando succederà che sento un mio suono registrato ho in mente attenzione però probabilmente se io alzo il master volume così di quel tot probabilmente è un suono più o meno così ed è così che si sviluppa quello che sembra essere un orecchio sopraffino. quando andiamo a vedere magari certi tecnici del suono che dicono senza neanche provare questo suono è fatto con hanno messo quel parametro a quel settato in quel modo eccetera eccetera questo è il motivo per cui si riesce a fare ovvero conoscenza ed esperienza. quindi non è una cosa innata è una cosa che bisogna impegnarsi bisogna impegnarsi nello studio e nella ripetizione la ripetizione tante tante volte ed ovviamente dove studiare? sapete benissimo che in questi giorni siamo in lancio con il corso Epic Guitar Sound Design che già siamo quasi al completo praticamente cioè sono entrate già le prime ore sono entrate una marea di persone però insomma non possiamo che esserne veramente contenti però ecco per quanto riguarda i chitarristi veramente abbiamo creato ci abbiamo messo mesi tanto impegno tanta passione e abbiamo messo insieme tecnici super tecnici super esperti ingegneri e didatti e grandi chitarristi anche abbiamo messo insieme le cose e riorganizzate in modo che fossero capibili da tutti perché uno dei problemi maggiori è che se io vado a ascoltare un tecnico che parla di certe cose mi parla di formule parole che posso non capire soprattutto se sono all'inizio se guardo un chitarrista bravissimo magari dico sì vabbè però lui magari riesce a far suonare bene qualsiasi cosa e quindi abbiamo messo insieme tutta l'esperienza che serve imparare dall'esperienza dei grandi chitarristi sia le conoscenze tecniche dei tecnici degli ingegneri eccetera e con altri didatti in modo che si creasse anche un metodo capibile comprensibile da tutti quindi se vuoi il metodo più completo di sempre sul suono della chitarra ti metto il link in descrizione mi raccomando oppure vai su chitarrafacile.com slash corsi e troverai il link per andare su epic guitar sound design bene quindi direi che ci vediamo al prossimo video fammi sapere cosa ne pensi anche di questa cosa qua e se sei già dentro al nostro corso dato che sono così tante le persone che sicuramente qualcuno guarderà anche questo video fammelo sapere nei commenti e fammi sapere come ti stai trovando ciao ciao a tutti ciao a tutti